...articoli si spiegano perché ci sono moltissime situazioni diverse, tant'è che appunto chi studia questa materia solitamente studia solo questa materia e si specializza in questa materia proprio perché è talmente complessa e le intersezioni sono talmente tante che basta questo e è a posto per una vita. Saltiamo direi i tipi di opere, poi ve lo lascio ma per andare un pochino veloce. Quando andrete a pubblicare, quando vorrete pubblicare un'opera voi potete pubblicare con il vostro nome e cognome, potete pubblicare come anonimo, potete pubblicare con un pseudonimo. famoso è il caso di Federico Baccomo, un autore che aveva un blog di grandissimo successo che si chiamava Studio Illegale, lui era un avvocato, lavorava per un famoso studio milanese, nel frattempo scriveva, aveva un blog con lo pseudonimo Dukesne, dove scriveva la vita di un avvocato milanese, quindi tutte le difficoltà, la cocaina che girava, gli sfottò dei capi e questa vita molto difficile. Il blog ebbe così tanto successo che fu pubblicato il libro Studio Illegale da Marsilio, una famosa casa editrice veneziana. Quando la persona addetta alla registrazione dei contrassegni siae da applicare su ogni singola copia e andate a registrare l'opera e si è fatta dare i bollini, al posto che utilizzai lo pseudonimo, ha messo il nome vero dell'autore. Questo blog e tutta la filosofia che stava dietro questi libri stavano proprio nel fatto che non si sapeva chi fosse questa persona, sia tutta la sua, perché altrimenti sarebbe stato credo licenziato dopo due secondi, lui per fortuna se ne era già andato al tempo, sia dal fatto che aveva creato un mito dietro questo personaggio e aveva scelto di continuare a pubblicare con uno pseudonimo. In quel caso in realtà il diritto al suo anonimato, la possibilità di pubblicare sotto pseudonimo era stato violato palesemente, ma insomma si sono messi d'accordo e è stato fatto un coming out dell'autore che ha deciso di esporsi pubblicamente e adesso i nuovi libri sono pubblicati chiaramente col suo nome e cognome. Però l'autore può pubblicarsi come col suo nome o cognome, oppure può pubblicarsi sotto uno pseudonimo maschera. Pseudonimo maschera significa che comunque la casa editrice sa chi è quell'autore, non è un qualcosa che arriva anonimo, perché se è anonimo, totalmente anonimo, un editore come fa a pubblicarlo e a stabilire, a guadagnarci su quell'opera? Esistono le opere cosiddette orfane, che sono opere delle quali non si sa chi sia l'autore e c'è tutto un mercato fomentato soprattutto da Google con il suo servizio Google Books che in America sta stando tantissima attenzione giudiziaria proprio per il fatto che tutte quelle opere delle quali non si riesca a capire chi è l'autore, perché non è automaticamente identificato o identificabile, Google le pubblica su Google Books e vi permette di scaricarlo, ci fa soldi perché le page view pubblicitarie, il fatto che aggrega contenuti sul proprio motore di ricerca con tutti i servizi collegati e quindi esistono tre tipi di nomi con i quali potete uscire, anonimo se non volete avere nulla a che fare con quell'opera, l'avete scritta ma non volete che nessuno sappia che l'avete scritta voi, non volete guadagnarci e altro, uno pseudonimo maschera, quindi autore anonimo ma si distingue da nome d'arte o da denominazioni o sigle che vanno a identificare quel soggetto, quindi nessuno lo può sapere, oppure pubblicate col vostro nome, il mio consiglio è pubblicare sempre col vostro nome perché tanto più in rete, tanto più nel mondo del digitale, il fatto di fare la cosiddetta personal branding, cioè la pubblicità, il marketing su se stessi aiuta moltissimo nella rete dove gli pseudonimi magari si perdono un po' di più e soprattutto nel momento in cui andate da un editore, perché magari il vostro libro è piaciuto e vi chiedono di scrivere una seconda opera o vi chiedono di pubblicarla, il fatto di pubblicare col vostro nome e cognome viene quasi sempre preferito alla pubblicazione con uno pseudonimo da parte di editori grandi, perché? Perché gli editori grandi preferiscono che sia chiara, a meno che non sia stato creato un mito come quello di Dukesne prima in cui da un blog, quindi anonimo, venivano diffuse queste informazioni, il vostro nome e cognome potrebbe spingere a aiutarvi a vendere più copie del vostro libro. Esiste addirittura un diritto d'autore sulle copertine, lo dico perché è fondamentale nel momento in cui voi andate a scegliere la vostra copertina e andate a cercare un'immagine, il mio consiglio è l'immagine fatevela voi, uscite con la vostra fotocamera, fate una fotografia e utilizzate quella come copertina, oppure se avete dei soldi da investire e vi piace un'opera particolare, comprate la possibilità dal fotografo di utilizzare quell'immagine, perché se poi venite sgamati successivamente alla pubblicazione e la vostra opera potrebbe avere successo, vi viene chiesto un risarcimento del danno, è molto più comune di quello che crediate, la violazione sulle copertine e le successive richieste di risarcimento danni. Le copertine infatti non sono considerate parte dell'opera, ma vengono considerate delle opere dell'ingegno a sé stante giustamente. Il diritto d'autore sulle copertine è assimilabile per quanto riguarda la durata a quello dei 70 anni della pubblicazione, perché? Perché se era in quella copertina, se era in quel libro e il libro è stato pubblicato e è soggetto al diritto d'autore per 70 anni, perché l'autore è morto e il diritto d'autore vale per 70 anni, si può essere abbastanza sicuri che anche la copertina è fuori diritti, perché la copertina, adesso andremo a vedere le immagini, sono tutelate in tre tipologie, la tipologia massimo è equiparata al diritto d'autore sulle opere letterarie, quindi 70 anni dalla morte dell'autore di un'opera, quindi siete sicuri che quella copertina forse la potete utilizzare nella maggior parte dei casi. Addirittura arriviamo ad avere un diritto d'autore sui caratteri tipografici, un diritto d'autore sulla composizione grafica di un'opera, quindi la protezione di caratteri tipografici particolari nuovi che dovreste acquistare per pubblicare, il consiglio è sempre quello di utilizzare dai Times New Roman agli Arial i caratteri più comuni che non sono soggetti a diritto d'autore in quanto è scaduto, ma attenzione perché il carattere tipografico può essere oggetto di diritto d'autore. In generale utilizzare fonte che possiedono delle caratteristiche totalmente strane e particolari è sempre rischioso, a meno che voi non sappiate che quei caratteri sono effettivamente fuori dal diritto d'autore, altrimenti i più comuni vanno utilizzati e vanno benissimi. La composizione particolare, una particolare composizione grafica dell'opera può essere tutelata, ad esempio delle composizioni creative dove sta sempre in un box il titolo del sa, del testo, ci sono tre colonne che finiscono in un certo modo, le parole sui iniziali sono sempre più grandi e l'ultima finale lo stesso, quindi attenzione alla composizione di un'opera, il consiglio è sempre quello di pubblicare tranquillamente le righe di testo normali senza aggiungere ghirigori estetici che molte volte confondono solo il lettore. Qui ve lo lascio, ma qui è un discorso un po' particolare sulla composizione grafica per la concorrenza sleale, perché chiaramente se sono forme grafiche sulle quali una casa editrice, un soggetto ha investito molti soldi e voi glielo copriate in maniera parassitaria vi agganciate ad esempio a come pubbliche in audio, come pubbliche ISBN, potete essere, c'è una normativa non del diritto d'autore ma del codice civile che è l'articolo 2598 che parla di concorrenza sleale, l'utilizzo parassitario quindi agganciarsi a un marchio che è molto forte, facendo apparire agli occhi di chi viene a comprare il vostro libro, che quel libro in realtà è un libro edito da quella casa editrice, potrebbe essere non una cosa prudenziale da parte vostra perché la concorrenza sleale non ha termini di durata e molto spesso viene riconosciuta. fotografie, diritto d'autore sulle fotografie, sempre la stessa legge, sempre i stessi 200 articoli, è abbastanza complicato perché distingue tre tipi di fotografie, tre livelli di tutela, tre durate diverse. La distinzione chiaramente è molto difficile perché è totalmente soggettiva, quasi totalmente soggettiva e i limiti tra una categoria e l'altra sono veramente sfumati, tant'è che la cosa più semplice è rivolgersi a un giudice che a sua volta decide soggettivamente se un'opera è da inserire su una categoria o su un'altra. Andiamo a vedere le tre categorie. Prima categoria le opere fotografiche. Le opere fotografiche sono quelle che hanno quello che la legge chiama un quantum minimo di creatività, sono le opere fotografiche, sono quelle immagini dalle quali si vede tranquillamente come è stata scelta una particolare composizione della fotografia, di quello che si riprende, si è aspettato una determinata luce, c'è una scelta particolare dei soggetti, c'è una, come vedete nelle foto sotto, c'è un'inquadratura che mette a fuoco alcune cose rispetto all'altro con una cognizione artistica sotto. Quello che vi ho detto potrebbe non dire niente perché è totalmente soggettivo a una cognizione artistica, una particolare composizione grafica. Questa è chiaramente un'opera fotografica perché è molto complessa e si vede che non è una fotografia comune. Diritto d'autore sulle fotografie, quindi quando voi andate a fare ricerca Libra su Google per cercare delle immagini per le vostre copertine o da inserire nel testo, state attenti perché ogni volta, ogni qualvolta voi riscontriate un minimo di creatività e tale creatività si riscontra quando c'è qualcosa di più di una mera riproduzione di io che faccio una foto a voi in questo momento. Fantasia, gusto, sensibilità, tutti i parametri totalmente soggettivi e per quello che vi consiglio di autofarvi le fotografie se vi servono. Particolari condizioni di luce, l'attimo ideale per effettuare uno sguardo, non c'è nulla di giuridico in questo, sono dei parametri tecnici totalmente soggettivi, totalmente differenziabili da persona a persona. Opere fotografiche che sono tutelate per 70 anni dalla morte dell'autore, quindi tutela massima come se avessi scritto un libro. Seconda categoria, semplici fotografie. Io che esco di qui e faccio una fotografia a una piazza. Quella fotografia, magari non c'è un... sono uscito e con il mio telefono l'ho fatta. Voi pensate, ah ho fatto una fotografia così, chi vuoi che me la tuteli? Il diritto d'autore la tutela per 20 anni dalla prima pubblicazione, quindi se io faccio una fotografia qui fuori, poi la posto sul mio profilo Facebook, quella fotografia nessuno me la può prendere senza citarmi, senza chiedermi se la può utilizzare, senza eventualmente pagarmi per sfruttarla economicamente, per 20 anni da quella data, per 20 anni da oggi. Semplici fotografie cosa vuol dire? Immagini di persone, aspetti, elementi della vita naturale o sociale ottenute con procedimento fotografico normale o digitale, quindi non c'è differenziazione, comprese di produzione di opere dell'arte figurativa, quindi vado in un museo e poi nel museo è ancora più complicata la cosa perché i musei e le opere che sono soggette, sono di sottotutela dei beni culturali, sono soggette a una richiesta di autorizzazione per poter essere fotografati, per poter essere sfruttato ad esempio un catalogo di quelle opere. Ma in linea di massima se voi andate fuori e trovate un'opera architettonica che ha più di 70 anni la potete fotografare. Quella fotografia è vostra, i diritti d'autore sono vostri per 20 anni da quando voi la diffondete per la prima volta. Quindi una protezione minore a quella di 70 anni ma comunque una protezione. Tutto quello che non ha un minimo di creatività per astruggere l'opera fotografica è semplice fotografia. Come fate a farvi tutelare se voi mettete la foto su Facebook, una semplice fotografia che avete fatto, dovete inserire il vostro nome oppure se qualcuno vi ha chiesto di farlo, quella fotografia, il nome del committente, l'anno perché va calcolato dall'anno di produzione e il nome dell'autore dell'arte fotografica se eventualmente avete ripreso un'opera per strada per la quale sono scaduti i diritti. Se voi mettete queste tre nozioni, questi tre identificativi e qualcuno ve lo copia in maniera non dolosa, quindi senza sapere effettivamente che quell'opera era vostra e non era ancora scaduto il diritto, non è assolutamente soggetto a nessun tipo di violazione di diritto d'autore. Perché se voi mettete questi tre identificativi io lo so che voglio sfruttarlo, so che non posso utilizzarlo e se lo so sono soggetto a delle sanzioni. Ma se voi non li inserite io lo trovo in internet e io che l'ho copiata non ero in mala fede, assolutamente non sono soggetto a nessun tipo di problematica giuridica di sanzione di risarcimento. Terza categoria, le mere riproduzioni fotografiche. È tutto ciò che non è le prime due, sarebbe semplice dire, ma sono riproduzioni di fotografie, di scritti, di documenti, carte di affari, tutto ciò che è il singolo istante fotografato a caso senza un minimo di creatività. Quindi io che fotografo ho questa bottiglia d'acqua, il mio telefono, ovviamente tutte queste fotografie non ricevono dalla legge sul diritto d'autore nessun tipo di tutela, li potete utilizzare tranquillamente. Quindi tre categorie, il mio consiglio è, se non siete appassionati di una particolare fotografia e volete evitare qualsiasi rischio legale, fatevi le fotografie per conto vostro, utilizzate fotografie che sono state licenziate in Creative Commons, perché anche le fotografie possono essere licenziate in quel modo. Ok. E questa è la parte sul diritto d'autore. Quindi tutto quello che potete prendere dalla rete è relativo al fatto che voi sappiate identificare chi è l'autore, l'anno in cui è nato l'autore, l'anno in cui è morto l'autore, l'anno in cui è stato pubblicato un determinato scritto, l'anno in cui è stata pubblicata una determinata fotografia. Il consiglio è quello di utilizzare le citazioni, utilizzare pezzi di opere meglio se si sono scaduti i diritti e utilizzare fotografie meglio se le fate per conto vostro, perché altrimenti c'è sempre il rischio che quelle fotografie siano state, siano tutelate dal diritto d'autore. Certo. E in caso non la fotografia, la data dello scatto, insomma, dovrebbe essere messa sulla fotografia o va bene anche se, per esempio, nel commento, in caso di Facebook, per esempio, io inserisco una lista, la zoom, il 2003. No, deve essere applicato sulla fotografia tramite un watermarking, quindi un'impressione digitale sopra, inserito nei metadati eventualmente, se è una fotografia digitale particolarmente importante, o comunque messo in un commento sotto non vuol dire nulla perché non viene legato alla fotografia direttamente. E quando per esempio, tanto e dopo, per esempio, su Facebook, ti dà il cilico pirate e poi il nome, in realtà, non vale niente. Deve essere sulla fotografia, perché sotto al cilico pirate potrebbe essere riferita a qualcos'altro, o è integrato, è inserito, è integrato, taggato nelle immagini tramite vari processi, altrimenti non ha senso. E' automatico, nel momento in cui si scatta, è automatico? No, perché in questo caso, il fatto che io non possa, visto che se è un'opera fotografica vera e propria, un'opera tutelata per 70 anni, sì, infatti le indicazioni sono da mettere solo nelle semplici fotografie, perché una semplice fotografia, se è una ripresa di un paesaggio normalissimo dove non c'è un minimo di creatività, per quanto possa essere soggettivo questo parametro, se non c'è il nome io non posso sapere e secondo me non è un'opera fotografica di grandissimo ingegno, non posso sapere se sono passati 20 anni da quella data oppure no. Nell'opera fotografica invece, nel momento in cui è scattata, è tutelata. Quindi, sì? Che scatti il diritto sulla fotografia? Sulla fotografia devono poi esistere i nomi, anni di produzione, i nomi dell'arte fotografica o passano in un solo parametro? No, tutto i tre e i tre. Tutto i tre e i tre. E i primi due, il terzo, se sei un'opera, se stai riprendendo qualcosa che è stata fatta da qualcun altro. L'albero chiaramente no, l'opera, il cavallo in mezzo alla piazza, sì. Se avete altre domande, curiosità sulle immagini, sulle copertine, sul diritto d'autore in generale? Se il watermark poi viene croppato, cioè se l'immagine viene croppata e quindi il watermark che viene eliminato, viene tagliato fuori, l'immagine quindi viene ridotta a una dimensione minore, come si applica? Puoi fargli causa. Ok. Perché sta violando il tuo diritto? Perché ha modificato la tua opera, in primi, se tu non gli hai concesso di modificarla, e soprattutto non ti ha chiesto il permesso e anche se hai tagliato un pezzo, i diritti d'autore su quell'opera sono sempre tuoi. Ti porto un esempio reale di una casa editrice che voleva utilizzare un particolare di un graffittaro che faceva graffiti a Milano come base delle proprie copertine di una collana. Da questo particolare, era un particolare di un graffito, ma era riconoscibile una parte della firma dell'autore, era una firma che lui metteva su tutti i graffiti, in quel caso è stato caldamente sconsigliato di utilizzarlo perché era comunque riconoscibile, nonostante lui, chiaramente il graffitaro non aveva messo nessuna watermark in sopra, non aveva messo nessuna tutela, però era un'opera per lui, non era una semplice fotografia, era un'opera dell'ingegno, era un'opera anche quando veniva fotografata, di conseguenza il fatto di fotografare quest'opera e di utilizzarla andava a violare i diritti d'autore di questa persona, anche se era una piccola parte di quest'opera, quindi il ragionamento del fatto di tagliare, di croppare una fotografia e utilizzarne solo una parte, se è riconoscibile che la fotografia è tua, che l'hai fatta tu, è rischiosissimo perché puoi essere imputato di violazione sul diritto d'autore. Se tu prendi un particolare minimo del quale non si riconosce, l'autore stesso non riuscirebbe a riconoscere, allora va bene, ma allora tanto vale autofarsela con la fotografia se devi prendere un particolare così piccolo. e comunque sempre in caso prendere elementi, se proprio devi, che non identificano minimamente quell'opera, quindi è totalmente inutile perché se avessi scelto quell'opera, quell'immagine voleva dire che aveva un significato particolare. Un piccolo passo indietro. Che differenza c'è invece con il brevetto, tra diritto d'autore è il brevetto. Se io faccio un prodotto editoriale piuttosto che un prodotto di design o qualcos'altro, se io voglio tutelare il primato, cioè la paternità della mia creazione, del mio progetto, posso affidare i miei creative commons e basta? E al diritto d'autore? Sono due brevetti e diritto d'autore, sono due cose totalmente separate, che hanno proprio due legislazioni totalmente separate. Per i brevetti serve una registrazione vera e propria per tutelare quell'invenzione, ma i brevetti è solamente qualcosa che tu hai inventato e devi sottostare a determinati criteri perché quell'opera sia brevettabile. Deve essere nuova, rispetto allo stato dell'arte, deve seguire determinate logiche, quindi la parte brevettabile, tu non puoi brevettare un libro, puoi brevettare un procedimento software che ti converte in ePub un PDF per dirti quello sì, ma deve essere nuova, non deve essere già stata fatta da nessun altro e viene tutelata, in quel caso per vent'anni, è una tutela più bassa, quindi sono due procedimenti totalmente diversi. Creative Commons è prendere la parte del diritto d'autore e la modula, non inventa nient'altro, quindi non sono tre categorie Creative Commons, diritto d'autore e brevetti, sono diritto d'autore e brevetti, che sono due cose totalmente diverse. Della parte del diritto d'autore è modulabile attraverso delle licenze che prendono delle parti solo del diritto d'autore e le altre le concedono. Niente. Qualche altra domanda? Ok. Passiamo a una cosa un pochino più pratica, gli ultimi 25 minuti, che afferisce totalmente all'utilizzo che noi tutti facciamo dei social network e di quello che passa sui social network, immagini, testi, video, video embeddati da YouTube, testi, qualsiasi cosa, fotografie. Perché se quello che c'è su Google voi dovete presupporre che sia tutelato dal diritto d'autore perché qualcuno ha la titolarità su quel diritto, a meno che non sia espressamente scritto, sui social network è ancora peggio. Perché cosa succede quando voi vi scrivete a, prendiamo ad esempio il più famoso, quando vi scrivete a Facebook accettate i cosiddetti termoservice, cioè delle condizioni di utilizzo del sito che se voi non flaggate quell'iconcina non vi permette di registrare. Sempre nessuno le legge chiaramente. Con quella accettazione voi concedete a Facebook una licenza non esclusiva, irrevocabile fino a che non vi cancelliate e per tutto il mondo, di utilizzare e sfruttare commercialmente e cedere a terzi quello che caricate sulla vostra pagina Facebook. Fotografie, video, commenti, citazioni, qualsiasi cosa, immagini. Qual è il problema? Che se voi prendete una fotografia facendo il copia e incolla da internet, quella fotografia è tutelata dal diritto d'autore, la postate sulla vostra pagina Facebook, state concedendo a Facebook dei diritti d'autore che voi non avete, perché quella fotografia non è vostra, i diritti d'autore non sono vostri, voi state condividendo qualcosa delle quali non avete i diritti d'autore e state concedendo a Facebook la possibilità di utilizzarlo a sua volta e di sfruttarlo. Questo cosa vuol dire? Che se qualcuno si lamenterà con Facebook perché ha utilizzato la fotografia che voi avete postato, Facebook dirà l'utente ha accettato i miei termoservice manlevandomi, manlevandomi, si dice, quindi sollevandomi da ogni responsabilità in merito a tutto quello che io carico sulla pagina. Quindi Facebook era autorizzato perché io a monte, utente, l'avevo autorizzato a fare una cosa che non poteva fare. In conseguenza l'utente, la terza parte che si lamenta con Facebook si lamenterà poi con me, verrà a chiedere a me problematiche e eventuali esercimenti perché avevo concesso qualcosa del quale non avevo diritti. Quindi cosa significa? Che se è pericoloso fare copia e incolla da una qualsiasi opera dell'ingegno che troviamo su Google con una semplice ricerca, ancora più rischiosa prenderà da Facebook. Qual è il problema? Che anche in questo caso è una nuova tecnologia basata su norme del passato perché il livello di condivisione di immagini, video o video che facciamo sui social network è all'ennesima potenza. Di conseguenza andare a verificare ogni singola cosa che condividiamo, andare a vedere se c'è un diritto di cronaca su quella cosa che condividiamo, andare a vedere se effettivamente lo potevamo fare, se sono scaduto i diritti d'autore non lo farà mai nessuno o lo fanno veramente in pochi. Quindi il consiglio è sempre quello, guardate e prendete spunto dei social network ma poi fate di testa vostra, fate con i vostri mezzi, createvi le vostre opere in modo che restino anche qualcosa di unico senza andare sempre a sfruttare qualcosa di cui non avete i diritti. L'arte del remix di cui parlavo all'inizio è proprio questo, da un lato prendere pezzi di cose che sono state concesse, pezzi di cose che sono fuori diritti, che quindi avete il diritto di utilizzare, dall'altro apportare qualcosa di vostro a quelle opere che state facendo, a portare qualcosa di nuovo. Andiamo a... Concedi con quella licenza, tu concedi a Facebook, non a tutti gli utenti, concedi a Facebook la possibilità di sfruttarla, non in esclusivo, quindi poi tu puoi comunque venderla se vieni un soggetto a chiederti quella fotografia. Puoi concedere la licenza a Creative Commons se ti va, ma non la concedi a tutti gli utenti. Se gli utenti si appropriano della tua fotografia, allora metti che la condividono solo sulla propria bacheca, faccio fatica a vedere uno scopo di lucro, di sfruttamento commerciale di quelle immagini che un utente fa della tua, a meno che non siano pagine, fanpage di brand o di società. Allora in quel caso una società potrebbe dire, tu potresti dire società tu hai sfruttato la mia immagine per portarti di visitatore, di nuovi fan sulla mia pagina. La stai sfruttando commercialmente? A mio avviso sì, perché ti stai attirando del potenziale pubblico, dei potenziali acquirenti tramite un qualcosa per il quale non avevo il diritto di utilizzarlo. Quindi se sono semplici utenti no, se andiamo, cominciamo a parlare di brand o di aziende, secondo me sì, puoi rivalerti. Il fatto non toglie che un utente non può prendere quello che tu hai fatto e sfruttarlo per i fatti suoi al di fuori anche della rete Facebook. Potete essere in caso in cui una persona acquisisca, cioè acquisti da Facebook un diritto di... Allora, un singolo, allora sì, tu puoi chiedere a Facebook, tu singolo, concedimi per la mia campagna promozionale, tutte le fotografie di quell'utente. Facebook effettivamente può venderle, ma deve essere Facebook che autorizza, perché Facebook ha i diritti, non può venire sulla tua pagina e fare copia e incolla. Ok, quindi tu concedi una licenza a Facebook. Un utente vuole utilizzare la tua immagine, deve chiedere i diritti a Facebook, a pagamento, Facebook glieli dà, allora lui li può utilizzare, ma non direttamente facendo un copia e incolla dalla tua bacheca. Pagandolo sì, perché tu comunque a Facebook gli hai ceduto il diritto, una licenza non esclusiva, di utilizzarlo, ma anche di cederlo a terzi. Perché se un utente Facebook schiaccia per 50 volte, scrive per 50 volte la parola rosa nei suoi commenti o nei suoi post, poi per un mese si trova fotografie, se una donna di borsa rosa attorno, non so se avete mai fatto caso, oppure di prodotti che ha commentato all'interno dei propri post o ha commentato all'interno dei propri link o eccetera. Perché Facebook, come tutti i social network, fa attività di profiling, quindi associa le tue scelte, quello che scrivi, quello che commenti, lo associa e lo vende, lo associa per zone geografiche, la maggior parte delle volte, e poi lo vende a società che fanno analisi dati, che a loro volta le vendono a società che fanno campagne promozionali o che vendono. Succede in questo caso che ovviamente Facebook ci guadagna, perché sta vendendo i tuoi dati. Come vende le tue foto? Considera a pari un tuo commento per il quale ti piace la birra e continua a scrivere cose sulla birra, al fatto che tu posti un'immagine. Facebook può vendere l'immagine a un terzo che gliela chiede, Facebook può vendere i tuoi commenti, le tue preferenze a un terzo che gliela chiede. Non può teoricamente dire a te, soggetto fisico identificato, piace la birra, ma può dire nella zona tot, per età geografica dai 25 ai 35, guarda che queste persone continuano a scrivere cose di birra. Quindi magari comincia a spingere il tuo e-commerce su quella parte, oppure comincia a fare le tue campagne promozionali spingendo molto su quella zona d'Italia, per dirti. Questo è esploso un anno fa, ma è una cosa abbastanza dissaputa per chi studia privacy online, eccetera, quando un utente, un ragazzo di 15 anni, omosessuale, aveva scritto nei suoi messaggi privati per un paio di volte con un suo amico e si scambiava dei messaggi privati, dicendo che non sapeva come dire ai suoi genitori, eccetera, nei messaggi privati, quindi non sulla propria bacheca. Un paio di giorni dopo, l'utente ha cominciato a vedere se arrivare le pubblicità attorno, consulenza psicologica per come affermare di essere gay, se è gay, dillo in questo modo. Anche l'utente ha detto, ma come, non lo sa nessuno, lo so io, lo sa il mio amico, ci scambiamo dei messaggi privati, come fa a saperlo Facebook? È un genio? No, semplicemente fa il profiling, fa l'analisi dei dati che voi vi scambiate. Dico voi perché io ho un odio particolare per Facebook, quindi sono uno dei pochi utenti della terra a non avercelo, e a cercare di farlo chiudere, ma non riusciamo. Di conseguenza Facebook vende le tue immagini, vende i tuoi commenti, vende quello che tu condividi a società terza, lo può fare perché tu gliel'hai concesso. Altra cosa è un utente singolo che viene a prendere sulla tua pagina la tua foto e la sfrutta commercialmente, perché non ne hai diritti. Se Facebook gli dà i diritti che tu gli hai dato, quindi fa una sublicenza, tu licenzi a Facebook quando ti iscrivi e Facebook licenza a un terzo, lo può fare tranquillamente, perché tu concedi a Facebook una licenza con diritto di sublicenza, quindi lo può trasferire a società vendendoli. Ma tant'è che se voi nel prossimo mese guarderete le pagine e le pubblicità di Google, Google ha implementato la propria informativa privacy dicendo che può utilizzare per scopi pubblicitari le foto, le pic profile che voi avete, se avete Google Plus, quelle fotografie che voi inserite, Google dal mese prossimo le potrà sfruttare per fare pubblicità dei propri servizi. Quindi voi potreste essere, senza saperlo, i testimonial ovviamente non pagati di una campagna pubblicitaria di Google. Questo per dirvi quanto quello che cediamo poi può essere trasferito a terzi e i terzi ci possono guadagnare, invece voi rimanete senza nulla. Cerchiamo di, salterei un paio di parti e andrei direttamente su quello che vi può interessare sulla parte di quello che esiste in rete, se riusciamo a farlo andare avanti. Allora, mettiamo un po' di arte del remix delle quali vi ho già parlato. Allora, eccole qui. Allora, UGC sembra una bruttissima sigla ma significa solo contenuti generati dagli utenti. UGC sono qualsiasi cosa che voi condividiate, che voi create e condividiate in rete. Quindi è qualsiasi cosa che voi avete pubblicato, un post, un'immagine col commento, un'immagine senza commento, un video, una musica, dove c'è uno sforzo creativo, cioè non avete fatto copia in colla di qualcun altro, è prodotto non per la vostra professione abituale, quindi al di fuori delle pratiche commerciali. Gli UGC sono i vostri commenti, sono i vostri post, sono le vostre cose scritte privatamente su internet, privatamente su un vostro blog personale. Tutto questo viene etichettato come UGC. UGC che qualche anno fa era stato eletto proprio per l'importanza che hanno i contenuti generati dagli utenti, dal Times come utente, come uomo dell'anno, come utente persona dell'anno, perché sei tu che crei dei contenuti, sei tu che nell'era dell'informazione connetti, condividi e crei informazione, perché il favore che noi facciamo quando un giornale online pubblica una notizia che noi ricondividiamo, retweetiamo, mandiamo in giro, allora se noi facciamo la figura di quelli bravi e culturati che hanno letto una notizia e che la condividono, ma poi tutto viene reindirizzato sulla pagina del giornale, che indirettamente sfrutta il nostro lavoro, viene spesso etichettato come content curator, quindi come cura dei contenuti più interessanti che vengono ricondivisi da noi, ma l'utente cosa ci guadagna da ricondividere? Dei followers, ci guadagna dei like, d'accordo? Come li sfrutta? Se è bravo e lavora nel mondo del web, riesce a sfruttarli perché poi riesce a proporre le proprie attività professionali all'interno di questo sistema. Se invece lo fa per pura passione, lo fa per pura passione, ma fa guadagnare solo un soggetto che è quello al quale i link arrivano. Quindi contenuti generati dagli utenti che possono essere un commento a un articolo con il link della stampa. È vero, noi abbiamo creato quel commento, quindi quel commento è un contenuto creato da me che viene, che rindirizza e fa salire di importanza un articolo che altrimenti magari gli utenti che mi seguono non avrebbero letto, non avrebbero visto. Quindi è un arrivo a destinazione in diretto veicolato tramite user generated content. Pubblicato vuol dire condiviso, diffuso sul web, su una pagina, su un social network, che viene ristretto a un numero determinato di persone selezionate, cioè i miei utenti Facebook, i miei utenti Twitter, le persone che seguono il mio blog. Esclusi chiaramente chat, mail e altro, quello non sono contenuti creati dall'utente, ovviamente. Sforzo creativo, il materiale deve essere creato dall'utente, deve aggiungere valore anche a qualcosa che è già stato generato dagli altri, un link a un articolo della stampa con un mio commento che commenta il contenuto dell'articolo. Una discussione, un editing di materiale. Vista l'importanza che hanno i contenuti generati proprio dagli utenti per generare traffico verso piattaforme web di aziende, queste bellissime società, tra le quali potete riconoscere le più famose, hanno fatto dei principi per incoraggiare la creatività. Cioè condividi i miei link, condividi quello che faccio io, perché fai comunque della gran creatività, che poi io ci guadagni perché porti i visitatori sul mio sito, sui miei prodotti, un'altra cosa. Però tu condividi perché è bello condividere, è bello discutere con le persone, ricreiamo un mondo virtuale, avviciniamo le persone. Questi sono i principi creati proprio da Disney, CBS, Viacom, Sony, quindi un po' di parte. Gli UGC sono musica, video, giornalismo partecipativo, testo, contenuti educativi, contenuti creati dai cellulari, contenuti creati in mondi virtuali, non so se qualcuno di voi si ricorda di Second Life, questo mondo alternativo che adesso sta tornando un pochino in voga per presentazione a distanza di libri. Io stesso con un collettivo con cui collaboro abbiamo fatto delle presentazioni di un libro che abbiamo scritto su Second Life e attorno a questa aula virtuale creata, ognuno era in una parte d'Italia diversa e all'estero, avevamo il nostro avatar e eravamo seduti su delle vere e proprie sedie virtuali con il nostro avatar, parlavamo dal nostro avatar e attorno su un anfiteatro avevamo 100-200 persone con il loro stesso avatar che ascoltavano, facevano domande in tempo reale, era una sorta di audio-video chat senza metterci direttamente la nostra immagine, quindi non una video chat alla Skype, ma un modo di partecipare e di creare anch'essi contenuti in maniera diversa. È molto di impatto anche per promuovere libri e per self-publisher, avviene molto spesso, c'ho delle creatività molto attive, delle società molto attive. Escluse i contenuti chiaramente che io gestisco professionalmente, se io sono un social media marketing, tutti i contenuti che creo per la mia società non sono user generated content, ma sono attività professionale, tutelata perché probabilmente qualcuno mi ha pagato per farle. Quello di cui parlavamo prima, di quello che io concedo ai social network si chiama licenza IP, che è quello con cui io concedo il diritto a Facebook, nel caso di utilizzare quello che io ho condiviso. Si fanno concedere queste licenze per chi social network? Per poterle sfruttare commercialmente, per poter fare indotto di quello che ti danno, cioè io ti metto a disposizione un luogo dove ritrovare la tua fidanzatina di quando avevi 15 anni, oppure per cercare nuove interazioni sociali. Te lo metto a disposizione gratuitamente perché Facebook è, e a seconda detta di Zuckerberg sarà sempre gratuito, come ci guadagna? Ci guadagna dalla pubblicità e dalla possibilità di vendere i contenuti che tu crei. Quindi tu in realtà sei un, fra virgolette, dipendente di Facebook quando accetti questa cosa, perché tutto quello che condividi, tutto quello che fai, tutti i tuoi commenti, i tuoi like, generano comunque introiti per Facebook. Gli utenti sono realmente consapevoli di cosa concedono? Per la mia esperienza no, perché nessuno chiaramente legge con le condizioni, ma anche se le leggesse farebbe fatica, perché sono scritte in linguaggio tecnico, a capire cosa effettivamente sta concedendo. Addirittura che alcune classation americane sono arrivate a pensare, c'è correttezza precontrattuale, cioè effettivamente la parte contraente di un contratto, quindi la parte forte, l'azienda, mi sta spiegando che io sto firmando un contratto con quella società, mi sta mettendo i loghini di Creative Commons per farmi capire in maniera più specifica possibile cosa sto concedendo. No, cambierebbero comunque le cose se Facebook mi spiegasse meglio questa cosa delle licenze? Probabilmente no, perché è talmente tanta la voglia di partecipare a questi social network che uno dice, ma sì, cosa mi interessa? Vabbè, prenditi le mie fotografie, non tanto le fotografie, ma prenditi i miei commenti, prenditi i miei link, è chiaro che se uno fa il fotografo di professione, forse sa benissimo quando deve caricarle su Facebook, o se le carica, sa benissimo a cosa va incontro. Quindi forse non cambierebbero le cose. Velocessimamente le licenze di Facebook, questo è un pezzo della licenza di Facebook tradotta in italiano, l'utente concede a Facebook una licenza non esclusiva, trasferibile, quindi la può trasferire a terzi con una sottolicenza, libera da royalty significa che Facebook la può vendere e tu utente non percepisci nulla, valida in tutto il mondo, che consente l'utilizzo di qualsiasi contenuto di proprietà intellettuale pubblicato su Facebook o in connessione su Facebook, tutta la questione dei servizi di terze parti che sono integrati su Facebook, i giochini che lavorano su Facebook o per i quali fate l'accesso tramite Facebook, tutto quello che generate Facebook lo può utilizzare. La licenza IP termina nel momento in cui l'utente elimina il suo account o i contenuti IP presenti sul suo account. Bene, quindi uno dice io mi cancello, sono a posto, la licenza è revocata, perfetto, solo che c'è in piccolino scritta questa cosa, a meno che tali contenuti non siano stati condivisi con terzi e con quei che questi non li abbiano anch'essi eliminati. Io ho pubblicato una foto, concedo la licenza a Facebook, mi cancello, Facebook non ha più la licenza per utilizzarlo. Un terzo soggetto ha condiviso quella fotografia sulla sua bacheca, quel contenuto è ancora di proprietà di Facebook. Quindi condivisione con terzi è il male di questo tipo di licenze, perché se io potrei cancellarmi e tolgo la licenza a Facebook non ci vedo nulla di male perché gli sto togliendo una possibilità di introito. Proseguiamo un po'. Vado veloce, YouTube è una cosa molto simile, stessa licenza sui contenuti che creiamo, solo che cessa effettivamente nel momento in cui l'utente rimuove il contenuto. Infatti se voi avete condiviso, avete caricato sul vostro account YouTube un video, vi cancellate da YouTube quel video, anche se altri utenti l'hanno ricaricato, l'hanno sfruttato, non lo vedono più. Tant'è che se io ho fatto un video della mia comunione, mia madre ha fatto l'embed del video YouTube sul suo proprio sito internet, nel momento in cui io cancello quel video o chiudo il mio account YouTube, quel video non è più disponibile neanche sui siti che lo ospitano. Quindi una cosa un po' più equa. Twitter invece accetta comunque la sublicenza, non c'è sempre il pagamento, viene sempre ben specificato che non vi devono nessun soldo e in più Twitter potrà modificare o adattare i contenuti. Quindi gli state concedendo la possibilità di modificare in base al messaggio che Twitter vuole fare a livello promozionale, prendere i vostri contenuti, adattarli o conformarli. Quindi abbastanza forte. Penultima cosa, su quello che pubblicate. Fate molta attenzione a quello che pubblicate in rete perché da un lato non esiste quello che viene chiamato diritto all'oblio digitale, quindi quando voi caricate qualcosa su Facebook, sulla rete internet, su un sito e lo cancellate un secondo dopo, se qualcuno in quel secondo in cui è stato caricato su internet, ha fatto un copia, è capitato sul vostro sito e se ne è appropriato, quel contenuto voi lo avete cancellato ma avete perso la possibilità di controllare la diffusione di quel contenuto. Che se ad esempio, e questo accade molte volte in ambito lavorativo, Adecco ha rilasciato due mesi fa una ricerca in cui dice che un dipendente su nove non viene assunto per i checking online che vengono fatti dai datori di lavoro della sua vita virtuale. Allora, io vado a fare in epoca pre-social network, andavo a fare un colloquio di lavoro, male che vada mi controllavano il curriculum, mi facevano delle domande, se non cadevo in tre anelli ero bene a che posto anche se fossi stato un nazista puro. Se io ho una pagina web, se io ho caricato su Facebook, ricordiamo che Facebook può vendere a società di analisi di mercato i miei dati, anche se non aggregati sulla singola persona, ci si può arrivare per aree geografiche o per attività, per connessione fra vari dati. Ho caricato commenti a sfondo nazista. Io Adecco voglio farti un colloquio, vado a fare un checking della tua storia online, vado a vedere il tuo profilo Facebook e vedo che sei quel tipo di persona. Magari mi può andare bene, ma l'azienda che mi ha richiesto quelle persone da lavorare, quei dipendenti, ha dato delle linee guida molto direttive, cioè non devono esserci commenti offensivi, non devono esserci foto di nudo, non devono esserci fotografie in cui bevo alcol perché altrimenti potrei essere soggetto magari a problemi di alcolismo. Adecco vi fa fare il colloquio o non ve lo fa fare? Non vi dice chiaramente che non vi prende perché ha controllato i contenuti su Facebook o perché sarebbe violazione della privacy, ma effettivamente è così. Il primo caso è avvenuto in America nel 2006, dove su MySpace, una delle prime social network dove prima della musica venivano diffuse anche i contenuti di immagini prima di Facebook, una ragazza che insegnava un insegnante elementare aveva caricato una fotografia in cui aveva un cappello abbastanza eccentrico, un bicchiere in mano non trasparente, un bicchiere dal cui non si vedeva il contenuto, il liquido, e sotto la foto era stata taggata come pirata ubriaco. Questa ragazza sull'ecitazione dei genitori dei ragazzi iscritti a quella scuola è stata licenziata perché la scuola ha ritenuto che non andasse bene per gli standard della scuola l'insegnamento da parte di una persona che tendenzialmente si ubriaca al di fuori dell'attività lavorativa. Quindi la difficoltà del verificare ogni volta e di pensare magari più di 10 secondi a quello che condividiamo in rete è ben ripagata nel momento in cui poi non ci evita problematiche di questo genere. Addirittura visto l'andare di Facebook sempre più grande c'è un programma, siccome gli utenti cosa fanno? Quando tornano ad una serata, una delle prime cose che fanno soprattutto tutti i giovanissimi, caricano le foto subito sul social network. È un problema da fare? Sì o meglio no. Perché? Perché dopo una serata non hai la lucidità di verificare, se sei a conoscenza di queste problematiche, cosa caricare, cosa ti può nuocere in futuro. Quindi ci sono dei programmi che possono essere installati su Facebook, delle app, in cui mi impediscono la pubblicazione di contenuti da mezzanotte alle 8 del mattino, del sabato del venerdì, questo per autolimitare la nostra poca cognizione nel fare le cose, che è abbastanza allucinante se ci pensate, cioè io che devo dire a un mezzo tecnologico impediscimi di fare una cosa, però purtroppo è così perché sempre di più nativi digitali e ragazzi della nostra generazione caricano di tutto senza pensare alle conseguenze. Ritornando alla responsabilità su quello che condividiamo, attenzione perché la manleva, cioè l'esonero che noi facciamo sui social network di quello che pubblichiamo, di quello che condividiamo, lo facciamo anche su un proprio sito internet. Quando noi ci scriviamo, compriamo un dominio internet e pubblichiamo qualcosa, come quando pubblichiamo un ebook, come quando accettiamo le condizioni di pubblicazione di un ebook per una piattaforma come Amazon o come Semplicissimus che mi distribuisce poi il mio ebook, solleviamo, manleviamo le persone che distribuiscono, che faranno quella cosa per noi, da ogni responsabilità che possa derivare dalla pubblicazione. Quindi c'è sempre una casola di questo genere, l'utente riconosce ed accetta di essere l'unico responsabile dei propri contenuti e delle conseguenze del proprio caricamento online o della pubblicazione. Quindi attenzione perché non è che se carichiamo qualcosa su un social network, ah ma poi la colpa è di Facebook perché l'ha diffuso lui, no, la colpa è sempre nostra, la responsabilità di quello che scriviamo è sempre nostra, indipendentemente dal fatto che possano watcherci in ambito lavorativo, ma qui stiamo parlando in ambito di diffamazione, in ambito di ingiurie, molteplici sono i casi di pagine e di persone condannate, non ultimo una blogger abbastanza famosa che aveva pubblicato online sul proprio sito, si chiama Writer Dreams, dei commenti sulle cosiddette EAP, che sono la pubblicazione a pagamento, quindi case editrici che si spacciano per case editrici e dicono vuoi che ti pubblichi il tuo ebook, si bellissimo il tuo ebook, dammi 2000 euro e te lo pubblico, te lo pubblico anche in carta se vuoi lo stampo, però dammi 2000 euro prima. Questo fenomeno delle case editrici a pagamento era stato sviscerato molto bene su dei blog, su delle sezioni di questo sito Writer Dreams di una 18enne, 19enne torinese, torinese mi pare, e ovviamente gli animi sono scaldati e degli utenti in maniera anonima grazie alla possibilità di lasciare commenti anonimi su quel sito, aveva scritto delle frasi oggettivamente diffamatorie nei confronti di queste società. La blogger è stata condannata per diffamazione perché il giudice non ha ritenuto che si dovesse andare a verificare chi era l'autore vero di quel commento e facciamo il punto, si può tranquillamente fare andando a vedere l'indirizzo IP di un computer che ha pubblicato qualcosa in rete, l'indirizzo IP è collegato a un contratto telefonico, un contratto telefonico è collegato a una persona fisica, quindi si può fare il matching fra queste tre cose, non ha ritenuto che valesse la pena andare a verificarlo e l'ha condannata lei che non c'entrava nulla per diffamazione perché aveva ospitato nel suo spazio online la possibilità per qualcuno di diffamare qualcun altro, quindi attenzione non solo a quello che pubblicate, ma se avete un blog, se avete uno spazio pubblico, un forum, qualcosa, attenzione a moderare i commenti e non permettere commenti anonimi, perché la sensazione di essere in un ambiente privato, solitario, come quella di internet, fa sì che molte volte ci sentiamo molto più liberi di scrivere e di condividere, in realtà se si è molto più soggetti al controllo sia delle persone, che possono appunto evitarmi possibili lavori successivi, sia da parte della legge, delle autorità giudiziarie che possono venire a verificare effettivamente una diffamazione o d'altro, che se detta qui dentro tra di noi, a parte che siamo in streaming e un conto, se invece viene detta su un social network, rimane lì ferma ed è facilmente identificabile perché anche se io posto un commento diffamatorio su un blog, lo cancello dopo un secondo, ma un altro utente ha fatto lo screenshot, cioè ha fatto la stampa digitale di quel commento e mi denuncia, io posso essere condannato per diffamazione se ci sono i requisiti. Quindi tutto quello che facciamo in rete è un fatto pubblico, è difficile cancellare dalla rete, è difficile che questo venga dimenticato. Scorriamo, ok, 5 minuti e chiudiamo, giusto due indicazioni su quello che potete fare come self-publisher. Allora, arriviamo a parte self-publishing, eccolo qui. Allora, attenzione quando e se deciderete di pubblicare un ebook. Un contratto di edizione, se qui vi trovate davanti, un contratto di edizione, con scritto contatto di edizione, per autopubblicarvi, probabilmente quel soggetto vi sta un po' prendendo in giro perché per autopubblicarvi non dovete cedere nessun diritto dei diritti d'autore, per autopubblicarvi, anche non in esclusiva, non dovete cedere nulla perché per convertire una società che vi fa la conversione da doc a ipub o da doc a mobi, per applicare un DRM, per fare attività di promozione della vostra opera, sono tutti servizi che voi pagate quella società per avere. Quindi non dovete cedere nulla. Voi potete pagare eventualmente quei servizi o potete pagare la distribuzione che quella società, perché una società non è una casa editrice, vi fa, viene spesso utilizzato impropriamente il termine royalties perché per ogni copia venduta, un contratto di edizione, un editore investe su di te, autore, e si prende magari il 70% del prezzo di copertina e tu ti tieni il trend. Nell'autopubblicazione nessuno investe su di te, sei tu che ti auto investi su di te, lo fai promuovere, lo fai convertire, applichi un DRM, compri una copertina. Poi la società che distribuisce si prende una royalties anch'essa, ma non è una royalties perché ha dei diritti di sfrutta, è una royalties perché vi permette semplicemente di distribuire sulle piattaforme dove voi non potreste arrivare altrimenti. Quindi vi fa un servizio. Quindi giusto che ci sia una percentuale che dovete corrispondere a una società che vi fa dei servizi, non è una royalties, non è un meccanismo di rapporto editoriale. Non c'è nessun rapporto editoriale tra un autore che si autopubblica e una società di servizi che fa self-publishing. Attenzione quindi a quello che in diritto si chiama nomen iuris, cioè il nome che viene scritto sugli atti che firmate anche digitalmente. Attenzione quando vi autopubblicate a quello che fate. Leggete molto bene le cause. Lì più delle volte sono molto specifiche e quindi si capisce. Se c'è scritto cessione di diritti alzate le antenne perché forse non va tanto bene che voi cediate dei diritti per dire a una società vendimi questa cosa. È come se io vado da un concessionario e gli dico vendimi questa macchina. Non ti sto dando dei diritti sulla macchina, ti sto dando una percentuale perché tu me la vendi, mi fai un servizio, perché tu sei un aggregatore di persone che vengono a cercarle da te le macchine usate e non da me. Devono essere chiarissimi quello che in molti contratti purtroppo è scritto ancora royalties, ma meglio se c'è scritto fee, diritto di recesso, cioè la possibilità di recedere da quel contratto di pubblicazione, i rendi conti ogni quanto vi pagano, eccetera. Ok, ci siamo.